ciao ragazzi grazie di essere qui con me oggi allora oggi ho un video che avevo già anticipato di massaggio alla schiena e ho con me una crema corpo e un olio cominciamo dalla crema ne prelevo una quantità abbondante e la spalma così e poi non 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 Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Cerco di fare la giusta pressione, cerco di non fare troppa pressione e cerco di lavorare soprattutto in queste zone qui, che sono quelle in cui si accumula più stress e in cui appoggiamo anche tutto a borsa, zaino, un po' esercizio c'è il collo e si riuniscono le spalle e cerco veramente di lavorare in questa zona e cerco di portare giù e cerco di lavorare in questa zona Grazie. Spero che riuscite un po' a sentire la zona della pelle. Di solito a me si accumula la tensione qui, un po' qui, a lei invece si accumula più qui sopra, qui no? Secondo me è molto, dipende molto dalla posizione che si assume durante tutta la giornata, dipende come si tengono borsi, zaini, soprattutto la postura. Io tendo a stare storta, lei tende a stare un po' coppa. Quindi abbiamo, è vero, quindi abbiamo due male in due posizioni diverse. Ora vado a usare questo olio. Un olio all'arnica con Pinomugo e questo è fatto proprio per aiutare a sciogliere i muscoli, infatti l'arnica. La frizzola all'arnica, colonne essenziale di Pinomugo, l'antico rimedio per la cura del corpo da utilizzare per il massaggio muscolare, ottenere una immediata e durata sensazione di benessere, ottimo soprattutto per il massaggio dopo l'attività sportiva. non è il nostro caso. Apri la che ho le mani unte. Ok. Questo devo dire la verità è un olio un po' secco che tende ad assorbirsi quasi subito, quindi questo è un olio di fresco, pazzesco. l'ho versato tutto sulla coperta. Oddio. Vabbè. Qua senti il caldo. Non si sente? No. Vabbè. Adesso provo a massaggiare un pochino anche la parte centrale. D singularmente. bilisi ABB d' solo l'attività fatale. a offenzaI di fare il passaggio con un clavi noir. Allalui, c'è l'attività THATART. Sì, dentro di quella che ho levato unolipoasti, Mattei è un decadzi, ma sono attivano, Adesso mi coccendo un po' sul collo Ora pensate che ci sia qualcuno a farvi questo massaggio dopo una giornata di lavoro, magari davanti al computer o se avete un lavoro in cui si fa fatica, si fa un lavoro fisico ancora peggio E' sempre bello tornare, c'è qualcuno che fa, massaggia la schiena Dopo il passo successivo direttamente crollare a letto penso, se neanche cenare Grazie Grazie Massaggio come dice Adesso finiamo sempre con questo Questo Ok Finisco il massaggio con Ah, potrei anche vedere il rullo Un po' di pressione Fatto con questo ceccino qui Poi Poi Vedete 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 a voi magari sembrerà anche un po' dei segni che lascia che io stia fregando, tanta pressione in realtà la pressione è veramente poca e andiamo infine un po' con il rullo, proviamolo questo sarebbe fatto per le mani e per i piedi infatti l'ho provato l'ho provato a mettere sotto la pianta dei piedi è spettacolare, è veramente gustoso ma sono bellissime allora direi che anche qui è ora di abbassare le luci e mandarvi la buonanotte con ancora un po' di massaggio con il rullo e un po' anche di visual tricola un po' sul collo buonanotte 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 sogni d'oro buonanotte 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 Grazie a tutti.